A striscia la notizia continua la staffetta dei conduttori. Da lunedì 2 a sabato 7 marzo sarà la comica Francesca Manzini a debutare dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci. L'attrice, ha prodata a striscia nei panni di una esplosiva e irriverente Maravenier in uno dei dei pacchi più divertenti di questa stagione, condurrà in coppia con Gerry Scotti. Nata a Roma nel 1990, Francesca Manzini è un'attrice e conduttrice radiofonica di RDS. Nel 2018 recita nel film Benedetta Follia di Carlo Verdone. Partecipa a diversi programmi tv tra cui Avanti un altro, Vieni da me, Matrix Chiambretti, Gran Nutella, Chiambretti, Gente che va e Gente che viene dall'isola e mai dire talk, dove si è fatta apprezzare con le imitazioni di Simona Ventura, Asia Argento, Maravenier, Maria De Filippi e tanti altri personaggi dello spettacolo. Nel 2019 prende parte alla prima edizione di Amici Celebrities nelle categorie Canto e Ballo. Dallo scorso 2 febbraio è nel cast di Enjoy Ridere Fa Bene, il nuovo show comico di Italia 1. 2. 6. 9. 10.